Si avvicina l'appuntamento del 7 settembre con il Jova Beach Party, concerto che si terrà sulla spiaggia di Montesilvano, Rifondazione Comunista fa delle riflessioni, non siamo contro l'evento in sé per sé, ma ci sono secondo voi delle problematiche e ci sono delle riflessioni da fare? La prima riflessione di Cappello è che eventi di questo tipo con questo enorme afflusso di pubblico vanno fatte nei luoghi deputati e quindi per noi sono i pazzetti dello sport, gli stadi, le strutture attrezzate che faccio l'invito alla politica locale a realizzare laddove mancano per appunto attirare questo tipo di eventi. Non di certo sulla spiaggia o in cima a una montagna che sono dei luoghi più fragili, pensiamo a una spiaggia bassa una mareggiata e non c'è più, luoghi che vanno attrezzati ad hoc, quindi con un impegno gravoso sia da parte degli organizzatori ma anche delle amministrazioni degli enti che costano a questo tipo di eventi. E poi c'è anche una questione propriamente ambientale, voi parlate di Montesilvano come della città del cemento ormai. Beh, una riflessione molto amara, il Joabic Park è riscontrato polemiche ovunque perché laddove si andava insieme le spiagge selvagge, insomma le ruspe sulla spiaggia a distruggere, insomma è un impatto gravoso. A Montesilvano il cemento è già arrivato sul mare, le dune le abbiamo già cancellate, della pineta rimane un brandello e lo stesso lungomare realizzato sull'ex arenile, i fossi sono già stati tombati. Come dire, è la cartina di tornasole di quello che è oggi Montesilvano e invece dovremmo puntare a un altro tipo di spiaggia, a rinaturalizzare quello che c'è, soprattutto in un momento di cambiamenti climatici, dove non è possibile fare tutto dappertutto. Ecco, noi vogliamo, ci auguriamo che gli amministratori locali mettano lo stesso impegno che stanno mettendo per la realizzazione di questo evento, ad esempio per il disinquinamento del fiume Saline, per bonificare la discarica di Villa Carmine e lo stesso impegno, la stessa concertazione di tutta l'area metropolitana per una mobilità sostenibile tutti i giorni, per far sì che i lavoratori e i lavoratrici possano andare a lavorare attraverso mezzi collettivi, treno, bus, tutte quelle cose che adesso verranno fatte eccezionalmente per il Conjava Beach Party.